Questa è la mia stanza preferita. È una stanza molto semplice perché contiene prevalentemente dei disegni, ma credo che qui ci sia il cuore della mostra. Il cuore della mostra sta nell'ornamentazione, nel gusto per la decorazione e quello che vediamo in questa sala sono tutti i disegni che producevano gli artisti e tutti i modelli che utilizzavano perché per creare un mobile, per creare un'argenteria, a quel tempo si disegnava naturalmente, ma spesso i disegni venivano modellati su delle stampe che circolavano per tutta Europa. È un po' come oggi la televisione, le stampe funzionavano come una cultura di base per tutti gli artisti delle corti europee. In questa stanza quindi noi vediamo delle raccolte di modelli, vediamo dei disegni, vediamo dei progetti e possiamo capire come avveniva l'ideazione nelle botteghe degli artisti.